un saluto a chi segue indifferita queste chiacchiere allora c'è l'audio doppio l'audio doppio fermo eccoti qua dunque lunedì 11 marzo 2024 ore 15 e 30 comincia un buongiorno molto laggato caraibi exploding kit in 87 dicevo un saluto a chi segue indifferita queste chiacchiere ma sperando di beccare in realtà poi vedere guardate comunque anche indifferita anche le cose che vi dico dopo volevo ricordare che stasera dalle 22 22 30 circa ci rivediamo perché a partire dalle 23 possiamo parlare di delle prime fasi di gioco di rise of the running e c'è la possibilità di fare un'anteprima ma a partire dalle 23 di stasera ci saranno quindi tante anteprime in giro probabilmente molte ne troverete domani anch'io ero indeciso se fare dei contenuti già stasera o domani sul gioco perché comunque le 23 è un orario per molti inusuale e quindi troverete molte anteprime di rise of the running domani magari domani ce le andiamo a sbirciare un po anche tutte infatti questo è fighissimo quando succede questo mi piace un sacco sta cosa stasera invece cominceremo a parlarne un po noi ho raccolto un po di domande vi ho chiesto di fare delle domande sul gioco sia su instagram che su telegram e ne ho raccolte un po e ma stasera tutti quelli che ci saranno in live potranno ovviamente in diretta fare delle domande ispirati anche da dalla chiacchiera stessa no si parla di una roba diciamo ma scusa ma come si fa questa roba qua e parliamo di quello e sarà bellissimo così ci togliamo un po di prime primissime curiosità su rise of the running poi ovviamente andremo a trattare molto meglio il 21 marzo quando scade l'embargo per le recensioni quindi il 21 marzo l'embargo per le recensioni io vi proporrò ovviamente la mia chiacchierecensione sempre qua su twitch ma facciamo tutto fondamentalmente su twitch sono un po aumentate le live sul canale perché ce ne sono molte anche di sera buongiorno laggato che non si schioda mai e c'è stato un periodo in cui pensavo di fare più contenuti inediti anche tipo su youtube più altre cose podcast eccetera però alla fine ma non mi trovo bene quasi con niente come con la chiacchiere in diretta di twitch con la presenza di altre persone non so perché evidentemente si sviluppa un certo tipo di abitudine sarà quello comunque insomma è così esplode in kitten mauro murray tolusezio caraibica j walter 5586 mark holk avevi detto che lo avresti fatto nel pomeriggio laggato lo faremo anche nel pomeriggio laggato mauro murray lo faremo anche nel pomeriggio laggato però stasera si può cominciare ma anche domani nel pomeriggio laggato anche domani sarà dedicato almeno in parte la live sarà dedicata almeno in parte alla chiacchierante prima di rise of the running quindi sia stasera sia domani l'ho scritto anche già questo anche su su telegram no su instagram l'ho scritto l'ho scritto sia stasera sia domani doppio appuntamento chi c'è stasera può fare le domande stasera che c'è domani può fare le domande domani le risposte si ripeteranno anche un po di domande e risposte chi se ne frega tanto i concetti quando vengono ribaditi va benissimo comunque vai facciamoci una chiacchiera invece adesso andiamo a sfogliare un po insieme un po di siti facciamo un po di rassegna stampa confusa come piace a noi sigla buonasera mister gualo buonasera mister gualo buonasera mister gualo carai bigente bentornate e bentornati in un nuovo buongiorno laggato allora come dicevamo lunedì 11 marzo 2024 ore 15 e 35 adesso facciamo una bella chiacchierata e vi ricordo stasera appuntamento a tra le 22 22 e 30 prima delle 23 ci rivediamo live perché alle 23 cominceremo a chiacchierare di rise of dronin ma lo faremo anche domani nel buongiorno laggato di domani quindi doppio appuntamento per la chiacchierante prima di rise of dronin allora adesso cerchiamo un po di notizie leggo dei titoli a caso completamente a caso final fantasy 16 versione pc e nelle fasi finali dell'ottimizzazione forse demo in arrivo attenzione da questo titolo su questo titolo non c'è scritto rumor da nessuna parte perché è una deduzione da una roba detta da naoki yoshida producer del gioco ok andiamo a vedere insieme andiamo a vedere insieme allora fa una fase 16 versione pc e nelle fasi finali dell'ottimizzazione forse demo in arrivo la versione pc di fana fantasy 16 e nelle fasi finali dell'ottimizzazione potrebbe essere preceduto da una demo stando al producer simone tagliaferri per multiplayer stando a quanto riportato dalla testata game informer che ha avuto modo di toccare l'argomento intervistando il producer naoki yoshida quindi non stiamo parlando di una fonte dubbia ma di una decisamente autorevole il producer del gioco yoshida non ha svelato la data d'uscita ufficiale della versione pc di final fantasy 16 ma ha spiegato che tutto dipenderà da come andrà appunto quest'ultimo sforzo per completare il gioco anche i requisiti di sistema non sono ancora definitivi anche se lo sviluppatore li ha definiti elevati segno che servirà un buon pc per farlo girare comunque sia anche assicurato che lo sviluppo sta andando bene ma che c'è bisogno di più tempo per la data di pubblicazione e l'annuncio della stessa inoltre yoshida sa che le specifiche potrebbero impensierire più di qualche giocatore quindi il team sta lavorando alla possibilità di lanciare una demo così da permettere a tutti di testarlo anche in questo caso non c'è alcuna data ufficiale comunque sia il nostro ha rassicurato una cosa è certa non manca molto non manca un anno non mancano due anni ma ci vorrà sicuramente di meno quindi restate sintonizzati quindi anche undici mesi da undici mesi a scendere non ha detto una bugia yoshida anche 12 mesi e 29 giorni tipo 11 mesi e 29 giorni 12 mesi e 29 giorni e più di un anno ciannino intanto rinnova il suo abbonamento con prime per un totale di 23 mesi comunque l'ultima puntata di lag una pariata ma le posso vedere quasi sempre indifferita ma troppo belle o sono molto contento ciannino che ti sia piaciuta l'ultima puntata di lag che era quella con azzalona e ilaria celli sì molto una puntata molto energica sicuro bella 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 belle chiacchiere bellissime chiacchierate anzi bene piaciuto un sacco anche a me mi piace sempre lag sono sempre anche diverse le puntate di lag mi fa piacere che ti sia piaciuto ciannino grazie per i 23 mesi grazie per il supporto un abbraccio digitale caraibi giorpi 87 sd z play mischi 20 87 azzalona molto simpatica dice mauro murray piena di spunti dice ciannino la puntata di lag benissimo allora invece tornando alla nostra rassegna stampa confusa andiamo a prendere una roba a caso da spazio games attenzione ps5 potrebbe ricevere un emulatore ps2 ma non esaltatevi troppo implicit conversions sul suo sito web afferma di lavorare al fianco di sony interactive entertainment per portare i giochi ps2 su ps5 ma non via disco e questa dovrebbe essere la cosa per non esaltarvi troppo io mi esalto il triplo se invece è così a cura di marcello paolillo caraibi marcello paolillo sembra che ps5 possa ricevere un'ondata di giochi classici per ps2 in un futuro non troppo lontano la console base facile da acquistare potrebbe quindi accogliere altre vecchie glorie del passato bellissimo che la console base facile da acquistare è per mettere il link di amazon però perché la console base quale sarebbe la console base qualunque cosa si intenda per console base qualunque modello di ps5 accoglierebbe queste vecchie glorie del passato nel caso fosse vera o comunque si realizzasse questa cosa di cui stiamo parlando quindi perché la console base perché è facile da acquistare per mettere il link di amazon metterei solo tra parentesi questa roba qua no tipo la console sony in generale tutto in tutti i suoi modelli aperta parentesi di cui la versione base è facile da acquistare la trovata in sconto su amazon chiusa parentesi potrebbe quindi accogliere altre vecchie glorie del passato e comunque questa informazione arriva per gentile concessione di una società chiamata implicit conversions via vg 24 7 che sul suo sito web afferma di lavorare al fianco di sony interactive entertainment per portare i giochi retro sulle console moderne l'azienda ha già portato diversi giochi per ps1 e psp sulle moderne console sony tramite la collezione playstation plus premium class x tra cui resistance retribution e jet moto 2 il mese scorso tuttavia le dichiarazioni recentemente apparse sui social dell'azienda indicano che ps2 ora nei radar il che è potenzialmente una buona notizia per coloro che non hanno mai giocato con i classici della sesta generazione prima che vi sondaggio voi riuscite a ricordarvi i numeri delle generazioni la sesta generazione sarebbe ps2 no perché io no spoiler io no voglio sapere se voi riuscite a ricordarveli quando uno vi dice settima generazione voi capite qual è io no assolutamente no impossibile mi dimentico sempre da dove si decide di cominciare quindi stavamo dicendo ps2 era la sesta generazione ps2 sesta quindi ps1 quinta generazione 16 bit quarta generazione gli 8 bit terza generazione le due prima le due prima quali sarebbero di preciso come le si identifica esplode in chitten 87 dice di sì sì io si riesce a a ricordarsi i numeri delle generazioni come si identificano le prime due chiedo a esplode in chitten o a chiunque c'è anche il banner poco sotto la pubblicità ragazzi i siti devono viverci io mi divertiva la cosa che anche poi addirittura nel testo del dell'articolo e non solo tra parentesi ma anche proprio tutta la frase viene costruita in modo atari e commodore forse dice altair non mi soddisfa altair no non la tua risposta eh cioè la tua risposta ti ringrazio per averla data ma non non credo cioè non credo possa essere questo anche perché commodore dipende cosa commodore fatto varie robe amica 16 bit commodore 64 8 bit e sono in due generazioni diverse prima ancora non so vic 20 allora attenzione spado in chitten e dice guarda su wikipedia andiamo a vedere andiamo a vedere insieme su wikipedia allora vediamo su wikipedia le generazioni di console la prima generazione dal 1972 al 1980 cosa c'è dentro il magnavox odyssey prima console in generale del 1972 home pong series che sembra un madonna mia sto roba è bellissimo una specie di cabinato casalingo lingo per pong tv tennis electro tennis coleco telstar color tv game ok la prima generazione è questa roba qua vediamo la seconda generazione magari 2600 è ah e anche atari 5200 non sono io pensate ah ma perché erano sono molto vecchi cavolo l'atari 2600 è del 1978 pensate che nella mia memoria ero bene o male quasi contemporaneo del commodore 64 ovviamente bisogna vedere quando sono veramente arrivati o quando si sono veramente diffusi in italia ok comunque questa è la seconda io vi confermo che faccio fatica a distinguere le robe della prima e della seconda generazione ma probabilmente perché io ragiono su bene o male le cose che ho vissuto no quelle che veramente mi ricordo bene sono quelle che ho vissuto queste qua dovrei imparare a memoria e ricordarmi a memoria come sono la tale 2600 però l'ho vissuto infatti lo mettevo in quella che qua sarà considerata la terza generazione si parla poi solo di console tra l'altro le generazioni sono solo per le console infatti tipo nella terza generazione non c'è un computer come il commodore 64 che era 8 bit ed era equivalente di NES e Master System ma pensa all'atari 7800 ma può vedere che io ho usato anche l'atari 7800 che tanto era retrocompatibile con i giochi dell'atari 2600 può essere può essere anche perché di sicuro mi ricordo questo controller quindi il controller che ricordo di più è dell'atari 7800 però può essere che sia stato usato questo controller su un'atari 2600 oppure i giochi dell'atari 2600 su ok nel frattempo però scusatemi c'è un fantastico ride di Only Irma grazie 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 per il ride grazie facciamo uno shout out a Irma ecco qua grazie grazie di cuore per il ride un abbraccione digitale a Irma benvenute e benvenuti community di Only Irma stavamo andando a cercare di capire di preciso quali sono le macchine che appartengono alle più vecchie generazioni di console la prima e la seconda in particolare e quindi ero molto preso da questa cosa e neanche mi sono accorto del ride così come non mi sono accorto del fatto che Lord of the Kind che fa meravigliosamente gli onori di casa ha regalato un abbonamento di livello 1 per un mese proprio a Only Irma perché Walo dici Irma se c'è scritto Only Iruma perché è scritto Iruma ma è inteso per essere pronunciato alla giapponese quindi Irma adesso mi ricordo che lo devo spiegare questo fatto perché c'è sempre qualcuno che altrimenti lo chiede chiaro? chiaro? Walo è sempre aggiornatissimo dice Only Irma non a caso stavamo andando a guardare le console degli anni 70 proprio per rimanere sempre super aggiornati grande Irma grazie un abbraccio digitale allora aspettate che però questo aspettate che mi sono perso magari dei messaggi precedenti la prima partita a Burraco è la Gen 1 dice Dante Horror Show Caraibi Maulins 83 in realtà si va più che altro ad anni dice Sploding Kitten esattamente come stavamo verificando adesso Carave Best Lord Dave The Kind anche io oggi sono sponsorizzato da Walone e dalla chiacchiera videoludica Caraibi a tutti grande lord ma perché le console si chiamano console? dice Ciannino questa è una domanda fantastica quando nasce il nome console per le console? wow vediamo un attimo se riusciamo a fare una ricerchina su sta cosa allora il termine si riferisce agli apparecchi concepiti per uso privato vabbè lo sappiamo però che ha usato il primo per la prima volta il nome console perché? il Magnavox Odyssey per esempio veniva definita console non lo so tipo nelle pubblicità del 1972 la chiamavano console questa è una ricerca difficile da fare comunque tornando alle generazioni invece quindi la terza generazione è la mia prima vissuta è la terza generazione di console e poi la quarta è quella con Mega Drive e Super Nintendo PC Engine Turbo Graphics 16 Neo Geo di contorno diciamo la quinta generazione ma guarda quanta roba nella quinta generazione che serve PlayStation Saturn e Nintendo 64 però c'è anche ah vedi Amiga CD32 perché è una console è considerata una console Atari Jaguar 3DO PC FX Apple PIP in Sega 32X FM Towns Marty solo per il mercato giapponese di Fujitsu sempre su CD sempre basata su CD fantastico ma Philips CDI non c'è perché dovrebbe essere qua in mezzo nella quinta generazione la quinta generazione è la più affollata di tutte sì rispetto alle precedenti sicuramente rispetto alle successive a maggior ragione perché poi dopo non ci sarà più niente la la sesta generazione Dreamcast PlayStation 2 Gamecube e Xbox è poi ancora meno dalle successive la settima Xbox 360 PlayStation 3 e Wii l'ottava mi piace che l'ottava ha al suo interno due console Nintendo Wii U e Nintendo Switch oltre a PlayStation 4 e Xbox One e quindi la nona generazione è solo PlayStation 5 e Xbox serie X e S e cioè se esce quest'anno o l'anno prossimo Switch 2 farà parte della nona generazione cioè alla fine Switch è stato per tre anni contemporanea di PlayStation 4 e Xbox One ma per ormai già quattro anni quasi siamo tre anni e mezzo e adesso anche tre anni e mezzo di questa generazione se esce l'anno prossimo Switch 2 Switch è rimasta per più tempo all'interno della nona generazione che dell'ottava come la mettiamo con questa roba dove dovrebbe stare Switch nella generazione in cui è uscita ok però chi è che determina qual è la generazione cioè per esempio Dreamcast viene inserita secondo me giustamente nella sesta generazione la stessa di PlayStation 2 Gamecube Xbox perché per potenza non per non solo per data per potenza che altrimenti dovrebbe essere cioè potrebbe essere considerata anche un po' contemporanea di PlayStation 1 Nintendo 60 esce due anni dopo il Nintendo 64 però viene considerata la generazione successiva perché per potenza secondo me Switch esce cioè probabilmente Switch sarà per più tempo contemporanea di PlayStation 5 e Xbox Serie X che di PS4 e Xbox One ma viene considerata della generazione di PS4 e Xbox One perché secondo me sarebbe strano considerarla come PS5 e Xbox Serie X e S anche questo questo anche per dire che tutte queste robe qua sono cose un po' decise così e che non hanno molto senso naturalmente no cioè nel senso che Dreamcast per esempio esce nel 1998 perché Sega stava provando a fare delle robe così anche Nintendo ha due console all'interno della stessa generazione va a finire qua no Wii U e Nintendo Switch vengono considerate della stessa generazione quando sono come dire cioè per Nintendo sono due periodi proprio diversi Wii U è la roba poi Switch è la console successiva però vengono vengono messe tutte e due nella stessa generazione però la domanda importante è perché le console si chiamano console Ciannino anche io vorrei capire chi è che per la prima volta ha deciso sta cosa Mr. Simon Caraibi Caraibi CCB 1991 Caraibi allora chi c'è Diablo 82 io ricordo fine anni 80 inizio 90 noi da noi giravano solo Master System e NES o almeno chiunque conoscessi che videogiocassi avevo uno o l'altro sì assolutamente come console erano nettamente le più diffuse e quando quando io penso a quella generazione di console penso solo a quelle due poi poi il caffè latte 1987 Caraibi chiedi a chat GPT dice Mr. Simon ragazzi lo sapete che prova a finire che mi amareggio quando chiediamo alle intelligenze artificiali le cose allora devo vedere non sa rispondere a sta roba vediamo un po' qual era il aspetta scusate allora vediamo un po' chiediamo a chat GPT dunque vediamo un po' perché le console si chiamano console il termine console nel contesto dei dispositivi di gioco elettronico è stato coniato per indicare le apparecchiature che consentono agli utenti di giocare ai videogiochi su un televisore o un monitor il termine deriva dalla parola inglese console che significa letteralmente unità di controllo o piastra di controllo chiaramente il termine dovrebbe essere di origine francese intanto Dante Horror Show regala un abbonamento così a chi capita che va a finire a Davide Ferraro grande Dante Horror Show grazie per il regalo un abbraccio digitale le console sono chiamate così perché fungono da piattaforma principale per il controllo e l'esecuzione dei videogiochi offrendo un'interfaccia tra l'utente e il software di gioco ok è chiaro che è una roba tipo ma chi allora grazie vorrei anche sapere quando è stato usato il termine per la prima volta il termine console nel contesto dei dispositivi di gioco elettronico è stato utilizzato per la prima volta negli anni 70 quando i primi sistemi di gioco per la casa come la magnavox odysse e l'atari on pong hanno cominciato a essere commercializzati tuttavia il termine console è stato adottato e consolidato nel linguaggio comune nel corso degli anni successivi con l'avvento di sistemi di gioco più avanzati come l'atari 2600 e il nintendo entertainment system puoi citarmi qualcosa di preciso con il termine console cioè non so una qualche pagina pubblicitaria dell'epoca purtroppo non ho accesso diretto a documenti e pagine pubblicitarie specifiche dell'epoca che cito nel termine console per la prima volta sta parlando bene oggi chat gpt tuttavia è noto che il termine ha cominciato a zoom per far vedere un po' meglio anche a voi magari è noto che il termine ha cominciato ad essere utilizzato comunemente nel settore dei videogiochi nei primi anni 70 quando le prime console domestiche hanno iniziato ad essere commercializzate potresti trovare riferimenti al termine console in pubblicità riviste di settore o materiale promozionale di quel periodo va bene secondo te a proposito di console secondo te a proposito di console conosci le diverse generazioni di console si le console sono comunemente suddivise in diverse generazioni in base al periodo in cui sono state introdotte sul mercato e alle tecnologie utilizzate ecco una panoramica generale delle diverse generazioni di console prima generazione anni 70 questa è la fase iniziale delle console domestiche caratterizzate da sistemi come la magnavox odyssey il primo sistema di gioco per la casa commercializzato nel 1978 oggi è fantastica chat gpt seconda generazione terza generazione quarta generazione quindi vediamo un po' settima generazione ottava questa è la generazione attuale di console che include la playstation 4 di sony la xbox one di microsoft e nintendo switch ha saltato wii u in quale generazione inseriresti wii u e perché e secondo te il resto del mondo in quale generazione la inserisce la wii u di nintendo è generalmente considerata parte dell'ottava generazione di console questo perché è stata rilasciata nel 2012 rilasciata non si dice ma glielo dico poco prima della playstation 4 e della xbox one che sono anch'esse considerate parte dell'ottava generazione tuttavia la wii u ha avuto una storia unica nel panorama delle console perché è stata un'esperienza di gioco ibrida che combinava elementi delle console tradizionali con un controller che incorporava uno schermo che non c'entra un cazzo questo design innovativo ha influenzato in modo significativo la direzione futura di nintendo con il successivo lancio ma non c'entra niente per quanto riguarda come il resto del mondo colo qui la wii u nella generazione delle console la maggior parte degli esperti degli appassionati di videogiochi concorda sul fatto che sia parte dell'ottava generazione tuttavia alcuni potrebbero considerare la wii u come un'esperienza di transizione tra la settima e l'ottava generazione a causa delle caratteristiche uniche no non è quello il problema e della sua posizione temporale questo semmai tra la wii settima generazione e il nintendo switch ottava generazione sai che in italiano non va benissimo dire rilasciare o meglio rilasciato come traduzione di released si dice pubblicato uscito messo in commercio ma non rilasciato rilasciare in italiano significa altra roba hai ragione grazie per la correzione in italiano rilasciato non è la scelta migliore per tradurre release nel contesto delle console di gioco le opzioni che hai suggerito come pubblicato uscito messo in commercio non sono sicuramente più appropriate per descrivere il lancio di una console sul mercato grazie per la precisazione figurati ma ricordati di usarlo ricordati di scegliere uno di quei termini la prossima volta altrimenti poi convinci le persone di qualcosa di sbagliato assolutamente terrò presente la tua osservazione userò le terminologie corrette in futuro è importante comunicare in modo chiaro e accurato grazie per la tua attenzione e per il tuo aiuto nel mantenere la precisione linguistica se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a chiedere sono qui per aiutare vabbè per adesso basta così grazie scatole cinesi sei mai stato lettore di manga sì 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 assolutamente sono stato un deciso lettore di manga negli anni 90 è come se avessi un interruttore che è possibile accendere in qualunque momento potrei leggere un manga da un momento all'altro però c'è da dire che sono anni che non leggo un manga per intero decenni forse però negli anni 90 ero un lettore di manga assolutamente sulla storia del videogioco dice mr simon ho letto il videogioco di lorenzo mosna è un libricino piccolo ma molto accurato ottimo mr simon se non sbaglio dovrei anche averlo da qualche parte mischi 2087 io la prima console che ho avuto è stato il super nintendo poi sono arrivate ps1 ps2 ho saltato ps3 ps4 ma ho avuto ps4 pro invece e ora ps5 in mezzo però se hai avuto ps4 pro mischi per me non hai saltato la generazione ps4 in mezzo ci sono stati anche all'epoca il gameboy rosso e il gameboy pocket e ora ho anche switch quasi 30 anni di console insomma molto bene mischi 2087 il cdi è nella quarta dice exploding kitten attenzione attenzione nella quarta cioè prima quindi folle cdi nella quarta generazione dove sono le generazioni dove sono le ho perse eccole qua allora sì cdi è nella quarta generazione ecco per esempio questa roba qua perché però perché cdi è nella quarta generazione perché è del 92 no la quarta generazione arriva fino al 2004 anche questa roba è strana e la quinta dal 93 al 2006 se si accavallano la quarta e la quinta vabbè sono robe decise anche un po' così sono robe decise un po' così cacciagallina carai il cdi aveva giochi stupendi soprattutto lo zelda che nintendo di oggi si meriterebbe dice lord of the kind credo che valga il periodo di uscita dice alex ultraviolet sì sì deciso però in modo arbitrario fondamentalmente non c'è un enorme criterio forse non ha senso classificare la switch all'interno di queste generazioni dice mr simon chiaramente come dicevo cioè non è che le generazioni ci dicono granché delle delle console in alcuni casi sì se vedi per esempio se prendi la storia di playstation e xbox per citare due marchi che comunque esistono ancora e ormai anche da parecchio tempo e vedi che c'è sempre un'equivalenza molto precisa tranne forse nel primissimo caso playstation 2 e xbox sono uscite con qualche anno di di distanza l'una dall'altra e xbox era un po' più potente per questo motivo però comunque era quella generazione e poi dalla generazione successiva in poi sono sempre state dirette concorrenti e molto simili a livello di potenza hardware anche poi da ps4 xbox one in avanti anche a livello proprio di struttura di architettura con ovviamente delle piccole differenze sempre però cioè bene o male ci sono poche console secondo me si sono avvicinate come potenza come molte playstation e xbox ci sono tanti altri casi di console che si avvicinano così il mega drive era più potente del nes no si perché era uscito dopo il super nintendo era più potente del mega drive perché era uscito un po' dopo il mega drive era della stessa generazione del nes però era uscito prima e quindi era più potente usciva per essere più potente del del nes e come per esempio il dreamcast che è uscito molto prima di due anni prima di playstation 2 saturn era diverso da playstation era incentrato molto sul 2d facendo anche il 3d ma sul 3d era meno potente di playstation che era meno potente di nintendo 64 che era nella stessa generazione solo playstation e xbox secondo me un po' si sono proprio spesso scontrate proprio ad armi pari diciamo si possono ancora mandare gli audio in chat perché un fan anonimo aveva qualcosa da dire assolutamente sì dante horror show audio su telegram immediatamente certo davide ferraro com ringrazia per l'abbonamento regalato allora tanto vado fan anonimo sentiamo sentiamo l'audio del fan anonimo aspetta mettiamo proprio qua allora ascoltiamo lo facciamo sentire proprio attraverso il microfono innanzitutto caraibi a tutti i fan di Polone e della chiacchiera ma è fantastica in particolar modo KJ Champagnino che mi sta molto a cuore nel caso volesse collaborare per il nuovo stadio a Bagnoli mi faccia sapere dobbiamo ancora decidere a chi intitolarlo e KJ Champagnino Stadium avrebbe il suo fascino a livello nazionale ed internazionale ma poi vorrei chiedere ma chi è il Cego Vast perché al giorno d'oggi si parla molto di chi è il Cego Vast la verità è che sono io il vostro Cego Vast caraibi ringraziamo assolutamente il presidente Aurelio De Laurentiis per questo ma è fantastica tra l'altro sta cosa e comunque presidente chi è il Cego Vast è il Cego Vast ecco chi è però anche la sua risposta mi è piaciuta molto assolutamente lei il nostro Cego Vast è bellissima sta roba fatta con intelligenza artificiale imitazione digitale di De Laurentiis strepitoso bello bellissimo un po' troppo calmo secondo me gli manca un po' di vena di incazzatura di sottofondo troppo calmo questo De Laurentiis che anche quando è calmo nelle sue interviste comunque è sempre un po' pronto a mandarti a fanculo e comunque in sottofondo c'era sempre quella cosa bellissimo però grazie grazie per il messaggio chat GPT mi dice che la PS2 a lancio in Italia costava 489 mila lire no impossibile Diablo 82 ma mai nella vita infatti ricordo che dopo un anno dall'uscita la pagai qualcosa come 600 mila lire no no troppo poco anche dopo un anno dall'uscita Diablo 82 costava penso tipo 900 mila lire no forse quando è uscito no no forse forse meno sì 900 mila lire era il prezzo di lancio di PS2 forse playstation 1 prezzo di lancio in Italia era tipo 750 mila lire quello ufficiale vediamo un po' playstation prezzo di lancio ufficiale in Italia 1995 allora vediamo un po' settembre 95 749 mila lire mi ricordavo allora 750 mila lire invece 900 mila lire era il prezzo di lancio di playstation 2 il prezzo di lancio di playstation 3 era 599 euro in Europa la versione con hard disk da 60 gigabyte ps4 399 ps4 pro 399 ps5 399 digital 499 con disco e poi i prezzi sono per la prima volta nella storia delle console sono aumentati nonziché diminuire nel tempo mentre zannafix irriducibile nel tempo rinnova il suo abbonamento di livello 3 per un mese per un totale di 47 mesi buongiorno abbonato a tutti carai biate zannafix grazie un triplice abbraccio digitale a zannafix per il suo super supporto 47 mesi è una roba che ci ricorda che dal mese prossimo dal mese prossimo avremo i quadrupli platini grande zannafix grande zannafix che arriva a 47 mesi di abbonamento oltretutto di livello 3 grande zannafix grazie grazie infinite per il supporto longevo e intenso grazie un abbraccione digitale a zannafix 78 ricordiamolo di San Marino non dimentichiamo questa particolarità e non è per discriminare né per bullizzare né per deridere però insomma un po' un po' ci diverte questa cosa ci diverte un sacco il fatto San Marino mi diverte tantissimo nelle follie della delle 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 convenzioni politiche mondiali è bellissima l'esistenza degli stati in generale e poi addirittura che diventa tipo che anche San Marino è fantastica sta cosa fantastica fantastica sapete che io vorrei ovviamente un unico gruppo che tutte le persone del mondo con la stessa lingua se possibile la stessa moneta lo stesso mercato le stesse queste robe di divisione sono molto incasinate oggi sarebbe bellissimo mettersi d'accordo per dire scusate ma facciamo una roba unica e basta ci mettiamo un po' d'accordo con con molta tolleranza su un sacco di di robe secondarie e ci mettiamo d'accordo soprattutto sulle robe importanti no secondarie intendo cioè tipo vabbè non è non è facile non è facile non è facile però insomma è un sogno mi piacerebbe Dante Horror Show risposta risposta di perplexity il termine console ultima componente non c'è una singola fonte per quando è nata però ok niente e mentre console significa il mettere insieme più componenti in una singola unità un po' sì generica come come roba ma non c'è una singola fonte per quando è nata niente è difficile risalire alla nascita del termine console e ce ne dobbiamo fare una ragione secondo me però sarebbe bellissimo chiedere a persone ancora vive che hanno lavorato al Magnavox Odyssey per esempio e vedere se si ricordano come si diceva qualcuno magari particolarmente attento che dice sì sì no ma mi ricordo perfettamente noi lo volevamo chiamare così poi si è cominciato a diffondere il termine console adesso non mi ricordo di preciso quando però guarda ti assicuro che sulle riviste sì oppure mi ricordo questa pubblicità dove si diceva console mi ricordo questa cosa ed era poi il 74 eccetera sarebbe fantastico poter fare una chiacchiera del genere Gian518 Caraibi secondo me su rilasciato chat gpt ha dato la ragione del fesso ualone dice vi for vendemmia beh insomma non tanto ha detto proprio no no è vero è sbagliato è meglio quell'altro dante horror show ualone sarà tra le prime vittime dei robot dopo questa sì sì no ma questo l'abbiamo ormai è stabilito cioè skynet mi ha puntato assolutamente c'è già un prototipo di terminator che sta andando in giro a sfogliare elenchi telefonici cercando Gianluca Loggia e perceptron Caraibi Ivan Fiorelli hai visto il video di Breccia dove analizza e riprogetta Twitch fa come critica all'interfaccia secondo me potrebbe piacerti ho visto che c'è questo video l'avevo iniziato e poi mi sarò distratto non mi ricordo per quale motivo non per la qualità ma forse l'ho anche visto tutto e non mi ricordo ne ho visto un po' mi ricordo come non mi ricordo se l'ho finito comunque sì so della sua esistenza Ivan assolutamente mi piacciono i video di Breccia Esploding Kit 1987 preso dall'articolo di Wikipedia allora because of the industry dynamics many console manufacturers release their new consoles in roughly the same time period with their console typical offering similar processing power and capabilities as their competitors allora questo spiega che questo modo di questa contemporaneità sul nel fatto di mettere sul mercato diverse console di diversi produttori ha creato la natura delle generazioni di console e dice che il criterio bene o male è periodo di tempo e anche similar capabilities dice e the same competitive space quindi effettivamente cioè questo rende le ultime console Nintendo anche veramente difficili da inserire all'interno delle generazioni di console rimane niente più niente nello stesso periodo di tempo perché sono sfalsati same similar capabilities assolutamente no e neanche the same competitive space non c'è nessuno dei tre criteri elencati qui per mettere le console Nintendo nelle stesse generazioni di quelle per esempio playstation e xbox negli ultimi decenni quindi è giusto sempre dire io lo dico spesso ed è giusto secondo me sempre dire vabbè Nintendo è una roba a parte sia come periodi di uscita ormai sono tutti sfalsati rispetto a quelli di playstation e xbox sia come potenza è assolutamente un'altra roba e sia anche come spazio competitivo non va secondo me sì certo ovviamente se consideriamo anche che ne so Netflix concorrente dei videogiochi nel senso che è intrattenimento figuriamoci se non è Nintendo concorrente di playstation e xbox però non è proprio la stessa cosa no non interessa proprio alle stesse persone c'è una grossa corrispondenza tra tutte le persone interessate alle console Nintendo e tutte le persone interessate alle console playstation e xbox invece chi è interessato a playstation può essere interessato a xbox allo stesso modo sceglie perché mi piace più questo più quello ma lo vede che è la stessa roba che potrebbe essere la stessa roba buondì passerotto caraibi caraibi shishimaru gaetano menna jack lorenzo 999x caraibi disse deridendo dice gian518 si scherzavo zanna fix diablo82 mi sa che le prime ps1 ps2 qui da noi importate dal giappone costavano più di un milione delle vecchie di sì assolutamente quelle importate sì però noi stavamo ripercorrendo di prezzi ufficiali e mi era venuto in mente 750.000 lire per playstation 1 o meglio mi era venuto prima erroneamente in mente 900.000 lire ma quello era il prezzo di playstation 2 invece me lo ricordo bene playstation 2 24 novembre 2000 in Europa 26 ottobre in America e marzo del 2000 in Giappone non mi ricordo il giorno però 4 marzo vediamo un po' playstation 2 era il 4 marzo in Giappone 4 marzo 4 marzo 2000 26 ottobre 2000 24 novembre 2000 vediamo se mi ricordo le date di playstation 3 no non me le ricordo già ve lo dico mi ricordo quella europea 23 marzo che da media world a milano fu anticipata al 21 marzo doveva essere il 23 marzo invece di vendere il 21 marzo però non mi ricordo America e Giappone ma era l'anno prima era alla fine del 2006 solo in Europa arrivò in ritardo di mesi ps4 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 secondo me in Europa è 29 novembre 29 novembre tipo 15 novembre in America e 29 novembre in Europa ps4 vediamo ps4 vediamo ps4 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 15 novembre in America 29 novembre in Europa queste me le ricordavo bene 22 febbraio 2014 in Giappone non avrei saputo dire ma sapevo che era all'inizio dell'anno successivo era per la prima volta nella storia una console esce prima in occidente e poi in Giappone una console di Sony esce prima in occidente e poi in Giappone forse una console giapponese in generale che esce prima in occidente e poi in Giappone era la prima volta nella storia con ps4 aspetta xbox vediamo le date di xbox xbox 1 mi ricordo quella europea che dovrebbe essere il 14 o 16 marzo 2002 forse 14 marzo vediamo xbox mentre in America era uscita alla fine dell'anno precedente cioè alla fine del 2001 ma non ricordo la data vediamo xbox 14 marzo 2002 in America 15 novembre 2001 e 14 marzo dell'anno dopo del 2003 è la data di lancio in Europa del servizio xbox live che invece anche in in America esce alla fine dell'anno prima alla fine del 2002 poi xbox 360 in Europa dovrebbe essere il 2 dicembre del 2005 in America nel corso del mese di novembre Giappone non lo so qua ma è uscita dopo allora in Europa 2 dicembre 2005 vediamo xbox 360 2 dicembre 2005 e 22 novembre 2005 in America attenzione in Giappone è uscita il 10 dicembre 2005 quindi quasi un lancio worldwide per xbox 360 e invece xbox one in Europa dovrebbe essere il 22 novembre del 2013 vediamo xbox one in America un po' prima e in Giappone boh forse l'anno dopo non lo so xbox one 22 novembre 2013 in Europa ah no 22 novembre 2013 anche in America incredibile incredibile addirittura in Giappone il 4 settembre 2014 dell'anno dopo invece ps5 uh sapete che queste non me le ricordo le nuovissime novembre 2020 sia per ps5 che per xbox serie x e s però cavolo non mi ricordo i giorni non mi ricordo i giorni di lancio in Europa di ps3 di ps2 addirittura di ps3 di xbox 360 di della prima xbox di xbox one e ps4 e non mi ricordo i giorni di lancio in Europa di ps5 e xbox serie x e s che però era novembre 2020 non mi ricordo proprio non mi viene da pensare niente neanche tipo potrebbe essere questo ma magari è sbagliato no non mi ricordo proprio i giorni sapete non mi ricordo neanche se è arrivata prima xbox e poi play penso prima xbox e poi playstation a livello di giorni ovviamente di pochi giorni andiamo a vedere xbox serie x e serie s 10 novembre 2020 no non me lo ricordavo minimamente cavolo non me non me lo ricordavo proprio ce l'ho dal day one ce l'ho dal day one eppure non me lo ricordavo ricordavo novembre 2020 e non avrei mai avuto dubbi su novembre 2020 ma non mi ricordavo la data invece ps5 il 19 novembre 2020 in Europa il 12 novembre 2020 in Giappone e America e il 19 novembre 2020 in Europa ok ok si un pochino mi ricordavo che era prima xbox infatti l'ho detto non ero sicurissimo neanche di questo ma un pochino me la ricordavo sta cosa adesso mi ricordo un po' meglio che che c'era stato il periodo di chiacchiera di xbox e attesa di di mon souls per ps5 bello però cioè non mi ricordo le date ma il periodo me lo ricordo proprio come super gustoso ma soprattutto con ps5 mi sono divertito tantissimo nei primissimi giorni con demon souls con miles morales mi dico mile morale e anche con astros playroom fantastico bellissimo periodo quello di novembre dicembre 2020 con le console di nuova generazione duke paxson rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 3 mesi grazie duke grazie un abbraccio digitale grazie per il supporto allora zannafix 78 dice sono l'agente 47 mi manca solo il codice a barre dietro la testa ma il capello c'è grande zannafix abbiamo lo stesso taglio quindi più o meno siamo in campagna elettorale a san marino tra poco ci saranno le elezioni ma cosa si vota il presidente della repubblica di san marino cosa si vota a san marino cioè il sindaco equivale a cosa al presidente della repubblica al presidente del consiglio la federazione della superterra esatto magin 987 tulle 1981 caraibi passerotto mia prima console l'odyssey 2 grande passerotto vecchio passerotto fantastico mauro murray a proposito walone non ti ho non ti ho trovato su xbox come hai fatto a non trovarmi walone semplicissimo walone non puoi sbagliare walone su playstation su xbox su steam sempre walone su nintendo purtroppo è comunque walone ma c'è bisogno di fare i numeri e le robe omega selvatico ci ascolta in background caraibi omega selvatico mister simon ma secondo ci sta anche il termine non abbia una data precisa si comincia ad usare un termine fin tanto che non diventa di uso comune poi ha più senso cercare la data in cui è stato se è stato usato per la prima volta dentro una rivista non ho capito bene mister simon chiaramente ci sono dei termini che diventano di uso comune nel tempo quindi è difficile risalire al primo utilizzo sarebbe fantastico poterlo scoprire però io vi posso dire sicuramente per esempio quando è stato usato per la prima volta in Italia in una in un contesto di per esempio stampa specializzata il termine soulslike per indicare il genere soulslike questo lo so perché l'ho fatto io per la prima volta e quindi me lo posso ricordare con estrema precisione nella recensione di Bloodborne e ne parlavo proprio dicendo questi giochi li dovremmo chiamare soulslike anzi invito tutti a chiamarli soulslike prima di quel giorno prima di quella recensione non si diceva soulslike in Italia Zannafix Tulle 1981 Tulle buongiorno Walo e community questi ultimi giorni sono stati molto proficui videoludicamente parlando ho finito The Last of Us 2 e sono riuscito finalmente a sconfiggere quel maledetto papa degli uccelli in Laika sono pronto a darti la mia opinione su The Last of Us 2 è uguale vai Tulle vai vai ti ascoltiamo fantastico anche io sto giocando un sacco in questo periodo ed è bellissimo l'inizio del 2024 è stato proprio super intenso per me a livello videoludico bello cornicione succulento caraibi questa t-shirt mi sa tanto di rullini Kodak anni 90 grande cornicione succulenta te la meriti per interno è proprio lei PS3 in Giappone novembre 2006 dice Tulle sì 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 anche in America Tulle Tony Doctor Doom 90 caraibi PS5 novembre ma non per tutti dice Passerotto certo non per tutti solo per chi era riuscito a prenotarlo cioè non tutti Gianduiotto Caraibi Caraibi Gianduiotto di che si parla ma di un po' di un po' tutto di un po' tutto siamo partiti col fare un po' di rassegna stampa e qualcosa ci ha spinto a cercare di indagare sul perché su come si sono state divise le generazioni di console perché si usa il termine console e quindi ci siamo buttati su su queste robe che i gespi di pippa Caraibi Astro una bella chicca sì sì ancora lo ricordo proprio con immenso piacere Astro Spray Room Zohar 1984 San Marino il presidente ma non vi basta il capoclasse siete 20 persone dice Zohar io cercavo Gianluca Loggia dice Mauro Murri eppure dovresti trovarmi Mauro Murri sia come Wallone che come Gianluca Loggia anche se Gianduiotto si chiede chi è Gianluca Loggia io non ti ho trovato su Netflix dice jsp di pippa no su Netflix no su Netflix non mi puoi trovare Gaetano Menagec ualo com'è nata l'idea del fumetto di Edoardo fantastico Gaetano Gaetano Menagec ha trovato un vecchio numero di Edoardo a fumetti con una mia sceneggiatura penso sia una roba di oltre 25 anni fa e tra l'altro quello che hai trovato tu Gaetano Menagec che ho visto su Instagram sabato domenica e lunedì è disegnato dai fratelli Cestaro Raul e Gianluca Cestaro che disegnano adesso già all'epoca si vedeva che erano dei super talenti se non sbaglio avevano già cominciato a lavorare anche per Bonelli disegnare robe per Bonelli ho avuto l'onore di lavorare con loro a a una roba pubblicata come la serie Edoardo a fumetti con il numero di sabato domenica e lunedì stavo leggendo in questi giorni proprio una storia di tex grazie a Bonelli Digital Classic che madonna mia deve troppo migliorare quell'app fa schifo cioè io la supporto dal day one dal dicembre del 2022 sono abbonato a Bonelli Digital Classic da dicembre 2022 non ho mai smesso per supportare la cosa perché adoro l'idea di avere i fumetti Bonelli in digitale disponibili sui miei dispositivi in modo comodo eccetera però l'app fa veramente schifo ragazzi cari amici di Bonelli schifo è un termine non particolarmente rispettoso ma che fa capire bene com'è la situazione per quanto riguarda il rispetto ribadisco che sono abbonato dal day one e perché l'idea è fighissima e soprattutto i fumetti Bonelli che sono inclusi nel nel catalogo di Bonelli Digital Classic meriterebbero un grande rispetto dall'app e non ce l'hanno questo rispetto dall'app l'app non rispetta i fumetti Bonelli detto questo intanto ringrazio DP8 che ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 10 mesi non avevamo festeggiato il 9 da poco dice DP8 il tempo passa DP8 ed è una cosa tutto sommato giusta grazie DP8 grazie per il decimo mese un abbraccione digitale a DP8 underscore quindi dicevo Gaetano Menna Jack il piacere di aver lavorato con i fratelli di Cestaro e come nasce l'idea del fumetto di Edoardo sai che non lo so nel senso che io ho fatto questo corso di sceneggiatura nella scuola di comics di Napoli di Via Tri 21 scuola a cui sono molto legato sentimentalmente nei ricordi perché è stato un bel periodo quello che era un ambiente dove si faceva anche roba pratica nel senso sì 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 c'erano dei corsi dove tu imparavi delle cose a livello teorico ma poi dopo anche pratico tant'è vero che molti degli studenti usciti da lì hanno partecipato a robe organizzate proprio dalla scuola la scuola diceva guardate io ho dei bravi disegnatori c'erano dei mostri a dire il vero tra i disegnatori della scuola sia tra i docenti che tra gli allievi e anche degli sceneggiatori per cui possiamo fare delle robe con la casa editrice LD91 si misero d'accordo però non so chi abbia avuto l'idea di proporre le commedie di Edoardo De Filippo a fumetti quindi non non ti so dire chi abbia avuto quest'idea però il contesto era quello era la fine degli anni 90 e facemmo sta roba fui molto contento è stato uno dei miei primi lavori in generale nella vita avevo tipo 23 anni quando ho cominciato il progetto mi sa quindi presto si parlerà di AAAV mi stai dicendo dice Truce Savior attenzione dove come quando perché quindi si può dire che il termine quindi presto si parlerà di AAAV ah ho capito come come Souls like AAAV beh potrebbe essere potrebbe anche essere assolutamente AAAV ricordiamo l'ha usato per la prima volta il nostro gabbro 2D AAAV prendendo spunto dal mio concetto di vai 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 distruggi lutta lutta farma eccetera quella roba là e lui dice i giochi AAAV sono quelli dove giochi sempre continuamente quindi si può dire che il termine Souls like sia caibano no non credo mttbff se hai inventato il termine Souls like significa che sei il datore di lavoro di Sabaco no non l'ho inventato che Gespi di Pippa in America si diceva già cioè era ma non è che si diceva aveva già senso dire Souls like io ho spinto a usarlo in credo che nella recensione nella mia recensione di Bloodbound ci sia il primo utilizzo ufficiale diciamo da stampa specializzata del termine Souls like con invito da parte mia a cominciare a usarlo per riferirci a quel sottogenere degli action RPG che sono i giochi tipo i giochi from software io invece sono tornato su Stalker dice 2N 1992 è proprio Kodak cornicione succulento esattamente io invece sono tornato su Stalker lo avevo mollato nel 2019 in particolare Shadow of Chernobyl ma dopo l'annuncio della trilogy su console e niente anche io mi sono sbloccato e sono riuscito ad andare avanti credo a sto punto lo finirò per PC il resto credo su console benissimo 2N fighissimo dice Giandugliotto 7 2N 1992 quanto cazzo è bello sto gioco per quanto abbia tanti difetti quel motore grafico sempre Stalker wow allora ti invio la richiesta su Xbox io su Xbox sono 2N360 ottimo 2N360 non c'è bisogno neanche di richiesta su Xbox ci si aggiunge e basta Mauro Murray no Gianluca lo ha già niente ho trovato mitico vuolone e ti ho aggiunto grande Mauro Murray dunque ho visto che c'era il box con i 6 volumi dice Gaetano Menna Jack si se non sbaglio Gaetano dovrebbero essere 2 box ciascuno con 6 volumi per un totale di 12 volumi erano 12 si 12 io avrò fatto mi pare 4 numeri di quei 12 Gianlujotto wow a proposito di Nintendo hai mai avuto hai avuto modo di provare questo Princess Peach Showtime no Gianlujotto pensare sia il primo gioco totalmente dedicato alla nostra Peach un po' mi emoziona sì è una roba sicuramente interessante poi per chi come me ama il regno dei funghi in modo particolare caro Gianlujotto chissà se si trova ancora dice Gaetano Menna Jack la roba di mi sa che è difficile però secondo me su ebay allora Edoardo a fumetti secondo me su ebay la borsa del fumetto attenzione la borsa del fumetto c'hai il numero 5 ditegli sempre di sì se non sbaglio pure l'ho fatto io questo no comunque sono difficili da trovare Gaetano usato alla borsa del fumetto condizioni ottimo euro 6 questo se non sbaglio pure l'ho fatto io ditegli sempre di sì non mi ricordo disegnato da chi e Tulle 1981 allora parlando di The Last of Us 2 premetto che mi è piaciuto tanto ed è stato un videogioco che mi ha toccato nel profondo ma a mio avviso ha dei difetti che ho fatto fatica a digerire e ho fatto fatica a finirlo ed è strano da quanto mi sia piaciuto molto interessante aspettiamo la seconda parte del del tuo commento SDZ Play molto bella la maglietta Kodak anch'io weekend di gaming ieri full immersion Baldur's Gate 3 avrò ricaricato dei combattimenti diverse volte perché dopo un'ora finivo regolarmente decimato queste ultime fasi pur giocando con un party da 5 mi fanno sudare molto grazie per la maglietta SDZ Play molto bene per il tuo weekend scuola internazionale di comics dice Tony Doctor Doom 90 no mi pare si chiamasse solo scuola di comics forse hanno cambiato nome in testazione non lo so caraibi stai giocando Final Fantasy 7 Rebirth chiede Datmar come ti sembra no sto giocando a Rise of the Ronin Datmar ho interrotto cioè avrei iniziato Final Fantasy 7 Rebirth ce l'ho lì ma adesso sto giocando più a Rise of the Ronin per approfittare delle scadenze degli embarghi e quindi fare dei contenuti insieme a voi tipo stasera alle 23 la chiacchiera anteprima di Rise of the Ronin e anche domani dopo pranzo nel buongiorno laggato quindi con Q&A quindi se avete domande se hai domande Datmar su Rise of the Ronin passa stasera oppure e o domani dopo pranzo e ci facciamo questa chiacchiera anteprima insieme ho frequentato un anno alla Comics di Firenze dice Catano Menna Jack costo di illustrazione ma purtroppo non mi sono trovato bene ah che brutte storie queste che finiscono con non mi sono trovato bene Catano Menna Jack Urbangolo primo messaggio nella chat Carai Biwalo Carai Bi a te Urbangolo ma quindi hai seguito il corso di sceneggiatura col mitico prof Brancato assolutamente sì col mitico Sergio Brancato e Peppe Denardo sceneggiatore erano i docenti del corso di sceneggiatura grande Urbangolo bello che tu sappia di questa cosa sei stato l'importatore del termine source like sì che jsp di pippa la ritenevo una cosa importante e quindi l'ho importata Tulle 1981 parte 2 la cosa principale che ho mal digerito è stata la stiracchiatura della storia con flashback giocati a mio parere messi lì per allungare il brodo sarebbero bastati dei filmati alcuni di questi flashback tipo quello al museo sono stati tremendi a mio avviso inoltre non mi è piaciuto per niente il voler raccontare i tre giorni a Seattle prima dal punto di vista di un personaggio e poi dall'altro avrebbe preferito giocare parti dell'uno e parti dell'altro ne avrebbe giovato il ritmo secondo me dice Tulle capisco posso capire per me una delle cose diciamo complicate del mio rapporto con The Last of Us parte 2 è stato il fatto che a un certo punto ero talmente preso dalla storia che le parti di gameplay soprattutto nella parte finale cominciavano a darmi fastidio perché non avevo voglia di del livello di sfida delle parti di gameplay e volevo semplicemente superarle per vedere come andava avanti la storia questa è stata un po' la roba più difficile per me con The Last of Us parte 2 per il resto me lo sono proprio goduto Fantox 92 Caraibi citiamo bene la frase che meglio identifica i triple avv dice vi for vendemmia giusto vai 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 continua massacra vai droppa tutto vai prendi lutta 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 continua potenzia bravo vi for vendemmia grazie è proprio questa la frase citata bene Fantox 92 vorrei recuperare Far Cry 6 prima o poi chi lo ha giocato me lo consiglia a Vito Juwara è piaciuto abbastanza a me dal 2 al 5 sono piaciuti ma non ho mai provato New Dawn Primal e Blood Dragon allora io mi ricordo invece bene proprio il 5 che però è piaciuto anche a te Fantox Primal ho recensito io ho recensito il 5 anzi prima Primal esce prima Far Cry Primal Far Cry 5 e Far Cry New Dawn è più o meno sempre quella roba là Primal a me è piaciuto particolarmente gustoso cioè bello leggero se ne scende è uscito in un periodo in cui era ancora presto per avere poter avere una enorme stanchezza di questi open world con con tanti segnalini sulla mappa poi c'aveva comunque una sua personalità Primal il mondo non era neanche brutto Far Cry 5 mi è piaciuto New Dawn un po' meno ma comunque abbastanza secondo me il 6 è ancora quella roba là Fantox 92 quindi se non sei stanco se vai secondo me vai buttati proprio su Far Cry 6 a Vito è anche piaciuto abbastanza io non ci ho giocato Tulle 1981 parte 3 oh continua attenzione l'analisi il commento Ad Last of Us 2 da parte di Tulle 1981 poi sempre a proposito di quei tre giorni non mi è piaciuto per niente il punto in cui il gioco è stato spezzato in quel modo il climax ha perso di potenza non sai quante ne ho dette a Drakman quando mi ha interrotto proprio in quel momento anche perché poi la storia dei tre giorni del secondo personaggio è quella che mi è piaciuta meno e dove più ho avvertito parti per allungare il brodo capisco Tulle capisco capisco no io non per quanto riguarda quello che è stato raccontato a livello di storia a me è piaciuto praticamente tutto sì ci sono dei momenti un po' più lenti dei momenti un po' meno lenti ma nel complesso me la collo potentemente tutta la storia di The Last of Us parte 2 e appunto ad arrivare a essere addirittura infastidito da alcune parti di gameplay perché interrompevano la storia il contrario di quello che succede in altri giochi bismarker 1986 ci puoi dire qualcosa ora su Rise of the Ronin no ovviamente no bismarker 1976 perché l'embargo per le anteprime scade alle 23 di stasera quindi se ne potrà parlare dalle 23 di stasera Mindulino Caraibi ci rivediamo ma il fisico è ancora vivo e vegeto dice Mindulino in che senso il tuo fisico Mindulino ci auguriamo che lo sia per tanto tempo Sergio Brancato credo sia stato il mio professore alla Federico II possibile Mindulino possibile al 100% Mindulino anzi direi che è proprio così Tony Doctor Doom 90 Sergio Brancato Cacchio è stato il mio professore a culture digitali alla Federico II vedi lo conferma anche Tony Doctor Doom 90 un mito un genio assoluto sì un grandissimo Sergio veramente veramente un grande ma poi un amicone anche davvero c'era un bel una bella atmosfera al corso di sceneggiatura alla scuola di comics di Napoli penso di non essere d'accordo neanche con le virgole dice Emanuele 800 a proposito di che cosa Emanuele 800 uguale un'espressione facciale che indica quanto ti stia piacendo o meno Ronin dice Passerotta è sotto embargo l'espressione facciale posso fare il cartonato ma che non ha a che vedere con quanto mi piace Ronin naturalmente sul discorso della Stovas 2 dice Emanuele il discorso di Tulle 1981 Emanuele non è d'accordo eh ci sta assolutamente è un gioco che mette fa discutere no divide no? Drugger SC pure io sto giocando alla trilogia di Stalker ne avevo sempre sentito parlare bene ma non l'avevo mai provato gioco fantastico atmosfera unica davvero un'avventura coinvolgente dice Drugger che intanto rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 15 mesi caraibi caibanissimi caraibi caibanissimi a te caro Drugger SC grazie per per il supporto grazie per questi 15 mesi un abbraccio digitale a Drugger SC sta cosa di Stalker che che vi piace tanto io non riesco ad essere attratto proprio dalla faccia di Stalker Urbangolo con Brancato ho seguito sia un corso universitario a Salerno e poi ho frequentato anche io un anno di sceneggiatura alla Comics è una di quelle persone che ti apre la mente di una cultura immensa le sue lezioni qualcosa di eccezionale che bello sentir parlare di Sergio dopo così tanto tempo sì sì assolutamente sono d'accordo Urbangolo ma poi ripeto veramente io cioè proprio la la simpatia di Sergio Brancato ricordo con con grande intensità Giancarlo Esposito dice Mauro Murray protagonista anzi cattivo di Far Cry 6 Fantox 92 diciamo che da molto che non metto le mani su un Far Cry potrebbe essere l'occasione giusta ci sta adesso è negli abbonamenti no? Far Cry 6 mi pare sia su o su PlayStation Plus o su o su Game Pass forse è stato in tutte e due non mi ricordo su PlayStation Plus me lo ricordo di più Tulle 1981 parte 4 del commento Ad Last of Us mi piace sta cosa puntate del commento di Tulle 1981 Ad Last of Us parte 2 e qui concludo però questa è l'ultima puntata sentiamo per me il gioco avrebbe giovato di essere asciugato di almeno 4-5 ore e il gameplay dove devi fare sempre le stesse 2-3 cose non regge per tutte le mie personali 28 ore che ci ho messo a finirlo ah dimenticavo la breve parte open map non mi è piaciuta ma qui si va molto nel personale perché detesto gli open world allora guarda a me possono piacere gli open world devo dire che neanche a me è piaciuta la parte open map di di The Last of Us parte 2 neanche a me perché non c'entra non c'entra tanto con The Last of Us mentre invece a me gli open world normalmente piacciono Ita54games buongiorno raggato a te hai seguito ho letto vagamente qualche notizia in merito agli Oscar dice Shepard91 ho visto un po' di robe sui social so che ha vinto open aimer 7 Oscar tra cui miglior regia e miglior film miglior film premiato da Steven Spielberg cioè Christopher Nolan premiato da Steven Spielberg e povere creature ha vinto 4 Oscar tra cui miglior attrice protagonista Emma Stone Robert Downey Jr. ha vinto l'Oscar per miglior attore non protagonista ma sì un po' di cose sì ho recepito un po' di roba ma non ho seguito in diretta la notte degli Oscar perché stavo appunto giochicchiando a Rise of the Ronin 2N 1992 2N 1992 ho fatto vedere no però è semplice questa roba quando c'è l'embargo non si può dire niente non è che si può dire poco perché poi dopo l'embargo poi approfondiamo no non si può dire niente non si può dire è come se non ci avessi ancora giocato capito è proprio semplicissimo da stasera alle 23 tutto quello che ho giocato di Rise of the Ronin diventa pubblico secondo il mio racconto naturalmente prima non esiste è come se proprio non esistesse è così che funziona con gli accordi Chris Gott ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 30 a 7 mesi grande Chris Gott grazie per il supporto un abbraccio digitale a Chris Gott Caraibi Uolone non so se ti ricordi quando all'azzirfata di Napoli tu eri lì in rappresentanza di Vito naturalmente ti ho parlato dei giocatori di livello alto in Fallout 76 che donano robe armi medicine munizioni set di oggetti leggendari nei casi estremi a quelli di livello basso lasciandole ai loro piedi nelle buste della monnezza non ve lo ricordavo Chris Gott questo fatto ma immagino mi abbia fatto ridere allora come adesso adesso nei luoghi di transito ci sono delle casse tipo Caritas in cui i giocatori possono mettere le cose ti ringrazio per questo racconto è veramente fantastica questa roba ma già le buste della monnezza lasciate ai piedi della gente per regalarvi armi e robe già era bellissimo e poi le casse tipo Caritas è bellissimo che abbiano aggiornato con questa roba fantastico mi ne voglio di giocare a Fallout 76 per via di questa cosa mi viene voglia di giocare a Fallout 76 grazie Chris Gott grazie anche per i 37 mesi Mauro Murray grazie anche a te Mauro Murray ha regalato un abbonamento di livello 1 per un mese a Punk Boot grazie per il regalo Mauro Murray grazie per il supporto un abbraccio digitale allora neanche rispetto a Ghost of Tsushima tu nel 1992 posso dire di Rise of the Ronin ma posso dirti che stasera e domani stasera a partire dalla 23 e domani nel corso del Buongiorno laggato possiamo rispondere a tutte le tue domande su Rise of the Ronin tra cui quelle che hai fatto quanto c'è più di Souls-like quanto di action normale e come è rispetto a Ghost of Tsushima assolutamente possiamo parlare di tutto questo KJ Walter 5586 ha regalato un abbonamento di livello 1 per un mese a embargo grande KJ Walter grazie grazie per il supporto mi piace un sacco questa cosa degli abbonamenti regalati a Nick che hanno a che fare con quello di cui si sta parlando che era una roba che avevo notato su Round 2 che la community faceva su Round 2 ed è super divertente grazie KJ Walter per un esempio di questa roba che mi piace tantissimo e grazie anche per il supporto naturalmente allora nel complesso conclude Tulle 1981 mi è piaciuto tanto il gioco e soprattutto la storia ma avrei gradito se fosse stata raccontata facendo più un ping pong tra i due personaggi per arrivare al climax senza interromperlo è una scelta è un'idea interessante Tulle il fatto di fare il ping pong tra i personaggi e devo dire che a me è piaciuto abbastanza anche così perché ti permette di avere poi dei momenti che ovviamente puoi sottolineare più con questa divisione più netta e invece con il ping pong però devo dire è affascinante come idea mi piacerebbe vedere una versione di The Last of Us non adesso però mi piacerebbe in una realtà parallela sapere come sarebbe stato un The Last of Us parte 2 con ping pong tra i personaggi sì è interessante cornicione caraibi punk boot cornicione succulento quella voglia improvvisa di provole pepe arrote carrette eh la mia intendi che ne sai che ce l'ho ma io ce l'ho sempre comunque ho la tua immagino la tua comunque andiamoci a guardare qualcuno guarda no abbiamo visto la mia ultima l'ultima provole pepe arrote carrette che ho mangiato che è ah no aspetta mi avevo dimenticato pensavo alla penultima ma invece c'è l'ultima sono stato da Gennaro Rapido eccola qua e questa è la provole pepe arrote carrette di Gennaro Rapido che secondo me è tipo la migliore comunque una del nettamente una delle migliori pizze arrote carrette a Milano buonissima la provole pepe questa è la marinara comunque molto buona buonissima anzi forse la marinara ancora meglio cioè nel senso se ti piace più la marinara o la provole pepe è una questione di gusto personale secondo me la marinara viene proprio particolarmente bene a Gennaro Rapido ma anche la provole pepe comunque difficile scegliere poi invece quella che pensavo io era quella precedente eccola qua questa qui di antica pizzeria bianca che è un buco via Procaccini a Milano una pizzeria di recente apertura aperto da due o tre mesi che fa pizza a Roticarret pizzaiolo un ragazzo milanese che però ha imparato lavorando appunto anche con Gennaro Rapido e con altri ha lavorato da Sorbillo da Pizium ha imparato a fare la pizza a Roticarret e adesso ha scelto di aprire la sua pizzeria facendo questo genere di pizza una scelta fantastica un ragazzo di Milano che fa a Milano la pizza a Roticarret super classica napoletana è fantastica questa roba è veramente questa è una roba che mi piace tantissimo sempre e bello poi vi faccio vedere a proposito di Milano invece una pizza al trancio milanese secondo me particolarmente buona che ho scoperto in queste settimane e cioè dove cazzo è fatta sta fotografia cioè che angolo del tavolo ah ho capito non riuscivo a capire che angolo del tavolo di casa mia è perché questa è consegnata a domicilio da Slice Slice se vi piace se state a Milano e vi piace la pizza al trancio milanese vi consiglio di provare Slice davvero buona buona e meno porca di altre pizze al trancio milanese ma non per questo meno saporita è proprio buona e anzi secondo me ha un equilibrio superiore a quello della media delle pizze al trancio milanese che sono troppo porche spesso e volentieri invece questa è proprio una pizza vi deve piacere il trancio milanese il trancio milanese è un genere deve ovviamente piacervi se vi piace quel genere il genere del trancio milanese a me piace questa pizza qua di Slice è molto molto buona va bene detto questo poi che altro c'è invece venerdì sera ho mangiato questa da berberè mediterranea con una specie di una variante di marinara diciamo con cipolla e olive buona come idea di di topping per per la pizza non male l'impasto questo era un quello che loro chiamano biodiverso o una roba del genere un impasto multicereali fatto per essere leggero risulta croccante non male buono non è non è una pizza di tipo napoletano naturalmente però non c'è male angolo pizza lo sapete quando lo quando lo stimolate poi qua non vi delude mai lo so Ivan Fiorelli ualo mi faresti quella cosa che fai quando un gioco non ti ha convinto appieno mi manca è da molto che non te la vedo fare a quale ti riferisci ma quella cosa questo fatto qui che non è riferito a potrebbe essere riferito tipo a no non è riferito neanche all'impasto biodiverso di berberè secondo me ti deve proprio piacere quel genere ualo dice tu nel 1992 quel mood sovietico russo ucraino eccetera per eh no infatti non mi attira tanto per stalker insomma poi la pioggia il freddo la decadenza la fantascienza sì sì no non mi attira moltissimo pioggia freddo e decadenza non mi attira una fantascienza in altri ambiti mi può attirare tranquillamente e il mood sovietico russo ucraino eccetera pure non mi attira tantissimo vi lascio il mio gamer tag dice mauro murray mauro murray 87 per chi volesse aggiungere su xbox segnatelo noi avevamo un file mauro murray su telegram c'è qualcuno che è in grado di di riprendere il file che avevamo postato tempo fa su telegram nel gruppo telegram con tutti i nostri nick nelle varie piattaforme con il nick di telegram il nick su twitch e nick su playstation xbox steam eccetera tutto incasellato così lo passiamo a mauro murray e può aggiungere tutte le persone che vuole oltretutto mettere i suoi nick così tutto bello tutto bello ma astral chain dice mttbff eh sì giusto astral chain che fine ha fatto mttbff anche quello dobbiamo fare forse aspetto un attimo però posso prenderlo anch'io allora posso ritrovarlo anch'io il coso allora nei documenti google ricerca nick mettiamo telegram ecco qua la community gioca dovrebbe essere questo è esattamente questo allora mauro murray lo riposto nel gruppo telegram riposto il file dei nostri nick sulle varie piattaforme da gioco e non solo aggiungete i vostri se ancora non l'avete fatto ecco qua e lo piniamo pin perché abbiamo foglio 1 foglio 4 foglio 2 sono stati aperti per sbaglio bello guarda quanti nick fantastico è bellissimo sto foglio fighissimo mauro murray postato sul gruppo telegram vai mindulino wow l'ho finito rebirth e sto cercando di platinarlo grande mindulino ottimo lo so wow lo sto a perculare dice tu ti leggo nella mente ti sta piacendo molto rise of dronin mi leggi nella mente ok chris gott forse mi sono abituato male ma secondo me in giochi così robe del genere ci stanno tantissimo perché creano anche nei giocatori più solitari un senso di community veramente figo sono d'accordo chris gott ne fai parte anche se non ne fai parte neanche devi parlare e magari ti limiti a salutare con la mano ma soprattutto ma cosa determina l'introduzione del successo di queste misure di welfare elettronico esatto se lo chiederebbe qualcuno chris gott esattamente wow lo sai che ci ho riflettuto dice perceptron e mi sono reso conto anch'io di soffrire il fatto che non ti puoi rivedere i film mi è successo recentemente con dune parte 2 prima con openheimer prima ancora con spider-man e lo so perceptron lo so lo so è così perceptron si riferisce al fatto dice voi qualcuno direbbe ma come non ti puoi rivedere i film rivediteli no si riferisce al fatto che se vai a vedere un film al cinema poi non te lo puoi rivedere subito come qualunque altra cosa si lo puoi rivedere ricomprando il biglietto e andando a un altro spettacolo in un altro giorno in un altro orario a differenza di quello che succede in tutti gli altri media quando esce quando viene pubblicato qualcosa tipo esce un gioco se tu lo compri al day one te lo puoi giocare a tempo indeterminato per tutto il tempo che vuoi giocare rigiocare andare a rivedere delle parti eccetera se esce un libro e tu te lo compri al day one dal day one di quel libro tu quel libro lo puoi leggere rileggere rileggere di nuovo leggerne solo alcune parti dopo cinque giorni andare a prenderlo e vedere aspetta com'era quella parte e controllare solo determinate pagine eccetera quando esce un fumetto stessa cosa appena esce hai la possibilità di consumarlo tutte le volte consecutive che vuoi e anche questo succede quando esce un film o una serie tv per il mercato casalingo quando un film arriva sul mercato casalingo diventa esattamente come qualunque libro fumetto videogioco che esce al day one e può essere consumato quante volte ti pare piace ma il film ha anche questa particolarità è l'unico medium ad avere questa particolarità che esce te lo devi guardare una tantum quando esce e poi devi aspettare mesi perché diventi una cosa fruibile in continuità è l'unico medium che ha questo tipo di caratteristica e a me dà un po' fastidio cioè fastidio mi è capitato un sacco di volte di andare al cinema direi quasi tutte le volte di andare al cinema e di dire cavolo adesso però mi è piaciuto sto film adesso vorrei rivedere quella scena vorrei avere quella sensazione di poter dire è uscito questo film io ho pagato quello che devo pagare per accedere a questo contenuto e vorrei continuare ad accedervi vorrei continuare a vedere ne soffro soprattutto quando il film mi piace devo aspettare poi dei mesi per poterlo veramente avere a mia disposizione in modo continuo sì mi fa piacere Perceptor che l'abbia notato anche tu generalmente quando dico questa cosa molte persone rispondono ma è normale è così che sia normale o non normale non lo so ma è l'unico caso in cui succede questa roba mentre in tutte le altre robe siamo abituati a esce ok quindi adesso c'è quindi la uso tutte le volte che voglio se ho acquistato questa roba oppure ho iniziato ad accedervi in abbonamento quello che è allora ti chiamo stasera alle 23 dice Sky Enrico puoi venire direttamente qui Sky Enrico mi troverai qui stasera alle 23 qui su Tovec cornicione succulento domanda valida per stasera alle 23 pacottiglia da batteria ne abbiamo questa per favore cornicione succulento vieni a farla stasera alle 23 questa domanda Waxi Blizzard Caraibi ma se volessimo partecipare alla chiacchiera con le nostre chiacchie recensioni a quanti caratteri magari inviate su Telegram dovremmo limitarci per rendere la cosa simpatica ma non molesta per la live o per la chat ma 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 veda Waxi Blizzard no in che senso cioè nel senso di in generale o per un gioco specifico secondo me in generale tu che già ci hai pensato no seguendo il tuo buonsenso puoi sempre inviare ma tipo dei delle dei file audio mi contestualizzi meglio la domanda Waxi Blizzard che è interessante ho recensioni scritte chiacchiere recensioni scritte beh lo facciamo già continuamente qui no tipo Tulle ha raccontato un sacco di robe del suo rapporto con The Last of Us Parte 2 e abbiamo seguito senza particolari problemi quindi vai Waxi vai tranquillo secondo me io direi vai tranquillo vai proprio tranquillo segui il tuo buonsenso visto che tu ti sei fatto già la domanda per non essere molesti come dovrei fare secondo me il tuo buonsenso va già bene e ti porterà a fare una cosa sensata tu le 1981 dovessi dargli un personale voto a The Last of Us 2 darei un 9 9 underscore 2 mi avessero tolto alcuni ma quindi ti è piaciuto un sacco ti sei soffermato soprattutto sulle cose che non ti sono piaciute nei tuoi commenti però poi alla fine invece ti è piaciuto un sacco ok non si vinceva mi avessero tolto alcuni flashback giocati e asciugato di 4-5 ore sarebbe stato da 10 piccolo commento sulla remastered potevano fare di più a livello tecnico ma nel complesso ho ritenuto ben spesi i soldi comprato a prezzo pieno per la cronaca molto bene Tulle 1981 allora in una tua magari ti volevi proprio concentrare sugli aspetti negativi cioè volevi parlare di quelli e ci sta in una recensione mi fa venire in mente questa cosa non è che tu volevi fare così va benissimo così però io in una recensione mi viene in mente che in una recensione secondo me bisognerebbe dare più peso agli aspetti tra positivi e negativi che sono più rilevanti nella nel messaggio complessivo che si vuole dare di un gioco cioè se tu vuoi dire che un gioco è da 9 9 e mezzo secondo me devi dare più peso agli aspetti positivi che agli aspetti negativi nella tua cioè per far capire che quel gioco ti è piaciuto così devi dare più peso agli aspetti positivi e dire poi anche guarda ci sono delle cose negative però guarda non riescono a inficiare perché per arrivare a dire che da 1 a 10 mi piace 9 9 e mezzo gli aspetti positivi sicuramente sono più rilevanti e Mauro Murray se la ride come Shepard 91 maledetto embargo rovina sempre la chiacchiera dice MTTBFF embarghismo e poesia dice Passerotto cornicione succulento che poi che braccino corto dagli la sta risposta a tu tanto poi se ti multano attingi dai milioni di vito dice cornicione succulento beh perché dovrei sprecarli se anche fosse così ma perché dovrei sprecare parte dei 3 milioni in ogni caso non lo farei se st z play su The Last of Us 2 a me la parte open map invece era piaciuta molto andare a cercare liberamente le zone da esplorare poi si forse toglieva un po' di ritmo alla narrazione mamma mia che bella dice cornicione succulento la pizza provole e pepe arroti e carrette di Gennaro Rapido o perlomeno Ualo non l'avrei spezzato proprio in quel punto dice Tulle 1981 riferendosi a un calzone invece di Gennaro Rapido o a questo o a The Last of Us parte 2 perché c'è una mozzarella sulla provole e pepe dice Perceptron ma molte pizzerie fanno sta roba di mettere un bocconcino di mozzarella di bufala sulla pizza al centro della pizza è un così una chicca tipo ciliegina sulla torta appena entrato e vedo foto succulente di Zirfe dice Fra BX mamma mia che bellezza di la verità Fra BX dove altro se non qui Chris Gott Wallone io da un po' mi chiedevo come sarebbe stato The Last of Us 2 se la seconda metafosa è stata ampliata e messa al posto della prima per far affezionare ai nuovi personaggi senza spiegare chi sono e cosa fanno anche questo mi piace un sacco Chris Gott anche questa idea mi piace tantissimo così come i personaggi della seconda parte non mi hanno detto nulla no addirittura invece a me è piaciuto comunque tanto anche così però è molto bella la tua idea mamma mia sarebbe stato fantastico vedere direttamente mamma mia è proprio bella quella roba bellissima bellissima quella è un'idea molto figa secondo me è difficile da fare perché quando tu inizi il gioco ti aspetti di giocare con determinati personaggi perché sono quelli del capitolo precedente no però sarebbe stato fantastico fanta mamma mia quanto mi piacerebbe vederla sta roba perché non Spontini dice tu nel 1992 perché Spontini caro tu pur avendo dato vita a questo genere di pizza qui a Milano negli anni 60 oggi è una catena abbastanza commerciale con un livello qualitativo inferiore a quello di tante altre pizzerie che fanno pizza al trancio milanese che sono di gran lunga superiori secondo me diciamo che Spontini è un po' scaduto nella commercialità non è più una pizza di riferimento lo è solo come nome l'aide è corrotte dice Pottopuk food porn è il termine moderno per porche dice Perceptron Perceptron food porn è più una roba legata anche a un certo tipo di estetica che invece le pizze porche al trancio milanese non hanno tantissimo poi food porn è anche quella roba tipo la crema di pistacchio a tutti i costi e qual è l'altra roba food porn per eccellenza la carbocrema la carbocrema nella nella pasta alla carbonara oppure usata nelle varie robe tipo il gelato alla carbocrema per esempio una pizza un po' mamma un po' porca dice Druger SC assolutamente sei mai stato in questa pizzeria assai Shepard assolutamente sì certo come no nel nel locale di Piazzale Segrino quartiere isola a Milano sì più volte non in altre aperture di assai non ho ancora non sono ancora mai stato in altre aperture di assai a Milano tipo quella che c'è in zona Moscova e forse c'è neanche un'altra da un'altra parte notato sempre solo in quella di isola Walo la tua dieta è a base pizza praticamente tu nel 1992 confermo Chris Gott secondo me andavano tolte parti come flashback per approfondire la storia della seconda parte e renderla migliore perché è la parte che mi ha convinto meno dice Chris Gott che voto dai a Berberet in generale dice Perceptron in confronto al rosso pomodoro non saprei voto Perceptron però diciamo ti posso dire questo come tipo di pizza preferisco quella di rosso pomodoro come qualità media dell'esperienza preferisco Berberet mi sembra un po' più sono stato in due diversi Berberet uno a Verone uno a Milano mi piace come tipo di ambiente come atmosfera eccetera mi piace il rosso pomodoro troppi alti e bassi nei vari punti di rosso pomodoro in cui sono stato e sono stato in diversi punti però la pizza più buona tra tutte e due l'ho mangiata nel rosso pomodoro di Porta Romana a Milano dove ho mangiato una pizza veramente buonissima una buonissima pizza in stile navoletano non in tutti il rosso pomodoro non in tutti e non tutte le volte in cui sono stato da rosso pomodoro ho mangiato così bene invece Berberet è una cosa diversa però bene o male la qualità è sempre stata di un certo livello diciamo preferisco il massimo teorico di rosso pomodoro decisamente ma la continuità di Berberet è superiore a me manca il sarabanda dice Zohar dai una canzone sola cosa può andare storto no ma non andrà storto niente anzi adesso la mettiamo proprio una canzone una al volo siete pronti? canzone da indovinare vediamo chi scrive chi indovina prima ovviamente vincerà anche chi ha una linea che gli permette di avere meno lag sul eh però è giusto è giusto premiare il nazismo sul sulla banda larga è molto bello allora dai una canzone fammi pensare facile dai facciamo la facile però mi dovete dire la cosa precisa eh non aspetta mi dovete dire la roba precisa che è pronti basta la cosa precisa ragazzi più precisa più precisa si è easy mod Zohar però la roba è precisa allora per adesso Crystal Beat per adesso Crystal Beat che ha capito secondo me comunque non è estremamente preciso perché è perché lui dice Final Fantasy VII remake rebirth il battle theme ed è giusto di Final Fantasy VII remake rebirth ma è remake ora non so se è in rebirth hanno usato proprio lo stesso però questo è quello di remake sicuramente è anche in rebirth lo stesso conferma Zohar allora Crystal Beat ha assolutamente risposto bene hai finito il remake cosa ne pensi chiede Punk Boot sì ho finito il remake mi è complessivamente piaciuto graficamente molto bello cioè l'impatto visivo è bellissimo secondo me ha un bellissimo ritmo all'inizio mi è piaciuto un sacco mi è piaciuta la parte finale in mezzo mi ha un po' annoiato in in molti punti purtroppo mi piace invece il sistema di combattimento e la cosa più bella in assoluto è esattamente la colonna sonora che è per me clamorosa proprio clamorosa ma è la stessa di Final Fantasy VII eh sì 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 anche come rivisitazione della colonna sonora di Final Fantasy VII originale è stato fatto un lavoro incredibile fantastico veramente fantastico mi ha annoiato purtroppo a livello di gioco di gioco in alcune parti centrali in diverse purtroppo parti centrali e secondo me a livello narrativo non ci siamo cioè proprio solo il remake in sé il primo capitolo quindi no proprio è proprio quasi scarso come roba narrativa non non mi piace tutto quello che viene raccontato al di là di sapere che la cosa adesso andrà avanti ok va bene però questa prima parte così pubblicata così come cosa a sé è troppo poco secondo me non mi piacciono i dialoghi non rendono bene con con il tipo di di estetica che c'è adesso era un effetto che non non c'era nel neanche nella prima parte di Final Fantasy VII originale invece qua c'è un po' non so i dialoghi non si sposano bene con 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 il tipo di gioco non lo so non so come dirla questa cosa e quindi no narrativamente no gameplay sistema di combattimento sì non 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 sempre non in tutti i casi ma comunque sì di base ritmo alti e bassi grafica top colonna sonora eccellenza assoluta questo è il mio parere di Final Fantasy VII remake cosa importante in che lingua l'hai giocato l'ho giocato in inglese con sottotitoli in italiano sei al corrente della forte dicotomia che ha colpito remake in inglese dicono cose diverse sì mentre l'italiano dovrebbe essere preso dal dal giapponese non dalla versione americana ma non è importante sta roba per per quello che ho detto io torno un attimo ai messaggi di prima non ti preoccupare Zohar faremo altri momenti sarabanda nella vita aspirina afrodisiaca buonasera ualo caraibia aspirina ieri ti ho scritto su instagram per un consiglio sulle pizze da assaggiare da biga e volevo farti sapere che la mia compagna è andata matta per la pizza quartieri spagnoli arroti carrette ti ho consigliato bene visto aspirina mentre io ho optato per la biga buonissima sì non male quella che sa un po' di pasta e piselli la biga come dolce abbiamo preso la montanerina sbagliata goduriosa e molto particolare me ne sarei mangiata altre dieci sì c'ha questo difetto grazie ancora per i suggerimenti figurati aspirina afrodisiaca sì la quartieri spagnoli è una delle mie pizze preferite da biga ve la faccio vedere in foto una marinara con diversi pomodori veramente buona 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 vediamo se riesco a recuperarla allora vediamo se la trovo una quartieri spagnoli di biga allora questa intanto è la forcella di biga che è la loro margherita a roti carrette e che questa sera qua in particolare era buonissima buonissima una roba veramente incredibile guardate che bella faccia che c'ha questa zoomiamola un po' così zoom mamma mia guardate che bella questa margherita a roti carrette veramente fantastica però vi volevo cercare la quartieri spagnoli questa invece è un'altra pizza a roti carrette non è ancora la quartieri spagnoli di biga questa è la cosacca di lioniello sempre a milano sempre nel formato a roti carrette condivide con la roti carrette di biga il fatto di avere un impasto non tradizionale napoletano né biga né lioniello hanno un impasto tradizionale napoletano però fanno comunque il formato a roti carrette su richiesta o per alcune pizze del menu il risultato secondo me è particolare e buono e dimostra che il formato a roti carrette si sposa bene con qualunque tipo di impasto perché semplicemente è proprio a livello logico migliore il formato a roti carrette e accontenta anche le persone come silverbrain che non amano il cornicione perché il formato a roti carrette ha molto meno cornicione il cornicione è meno rilevante nel tutto allora non sto riuscendo tanto a trovare la quartieri spagnoli di biga ma continuano ad arrivare a comparire pizze a roti carrette nella nelle mie foto questa è una provola e pepe buonissima a roti carrette di 0.0 a casoria se siete da quelle parti vi consiglio totalmente di andare stasera da 0.0 a casoria a prendere ad assaggiare le pizze più semplici nel formato a roti carrette marinara margherita provo le pepe sono straordinarie 0.0 a casoria e questa cos'è invece ah sì questa pure era molto buona questa sapete non mi ricordo come si chiama la pizzeria era un raduno di un gruppo di amici tifosi del napoli e siamo andati in sta pizzeria e abbiamo preso questa questa era una una sorta di marinara starita la marinara starita è marinara base marinara con aggiunta di pomodorini e pecorino e pepe questa era fatta più o meno allo stesso modo diciamo l'interpretazione di questa pizzeria di quella però mi si chiamava in un altro modo buonissima me la ricordo molto buona molto gustosa non mi ricordo come si chiama la pizzeria in zona policlinico invece questa cos'è no questa non è particolarmente interessante qua siamo di nuovo da gennaro rapido con una provola e pepe a roti carrette con tanto di mano che indica che serve a far capire le dimensioni ma io sto cercando la quartieri spagnoli di biga non vi preoccupate che ve la trovo questa è la modica di quando siamo andati a fare il quando abbiamo fatto il raduno che era a dicembre sì a dicembre il raduno della nostra community alcuni di voi si ricorderanno questa era la modica che presi una sorta di quattro formaggi con confettura di di cipolla e scaglie di cioccolato di modica da cui il nome modica veramente buonissima sta pizza da amuni in via solari a milano ma sto cercando la quartieri spagnoli di biga veramente non la mangio da così tanto tempo devo andare a proposito di marinare buone non a rodicarrette questa è la angelina di giolina una marinara ai quattro pomodori buonissima anche questa buonissima che è simile un po' al concetto portato avanti dalla quartieri spagnoli di biga che però è nel formato a rodicarrette che sto ancora cercando non vi sto facendo vedere tutte le pizze che incontro in questo viaggio al ritroso perché sono veramente tantissime eccola qua la quartieri spagnoli di biga l'ho trovata buonissima veramente buonissima c'ha un gusto incredibile questi pomodò diversi pomodori insieme è un gusto eccezionale veramente troppo troppo buono ci devo tornare allora grazie che j walter per il file le pizzette rosse da forno le mangi qualche volta dice datmar non le inseguo datmar ma non le rifiuterei mai dunque dunque e qui mi viene da fare una domanda per te walo dice tu 1981 ma pure per tutta la chat per come finisce the last of us 2 secondo voi c'è spazio di manovra per continuare la storia di ellie e debbie o secondo voi il futuro del brand sarà incentrato su altri nuovi personaggi sempre 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 ambientato in quel mondo no secondo me c'è possibilità di entrambe le cose quindi anche la possibilità di continuare con personaggi che già conosciamo secondo me c'è assolutamente questa possibilità magari c'è un passaggio ad altri personaggi no? un po' come è successo con l'introduzione di ebbi in the last of us part 2 locco rulez caraibi 50 anni fa dice mettiti bff non era così pagavi il biglietto e stavi quanto tempo volevi no? no ma non tipo che due giorni dopo se ti vuoi rivedere capito quando compri un libro due giorni dopo anche meno di 50 anni fa comunque potevi fare quella cosa che dici tu ma quando compri un libro tu due giorni dopo riprendi quel libro e ne rileggi alcune parti eccetera allora il cinema non c'è questa cosa è l'unico medium che ha questa cosa Marco riscatta un quedex avevi ragione andiamo subito a soddisfare la tua richiesta allora quedex quedex avevi ragione fatto una recensione uguale sarebbe stata molto più lunga dice tulle volevo discutere di elementi che non avevo letto in nessuna recensione ci sta assolutamente tulle inutile la bufala sta bene ovunque dice mauro murray io ho conosciuto quella che sarebbe diventata poi mia moglie da spontini dice mtt bff questa è una storia fantastica d'amore e di pizza mi piace un sacco gelato alla carbocrema dice perceptron questa è discriminazione digitale dice punk boot gate keeping sul lag da wallo non me lo aspettavo dice lo coru let's gate keeping è proprio veramente discriminazione è giusto discriminare le persone in base alla provenienza e dunque alla disponibilità di banda no 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 provenienza zero solo disponibilità di banda mtt bff provenienza mai ho risposto a punk boot su che ne penso di final fantasy 7 remake confusionario come trama ma gran gioco dice maximo t w t 22 punk boot io ho incominciato ad apprezzarlo dopo la scena della chiesa di iris la colonna sonora mi commuove la colonna sonora è bella per tutta la durata del gioco secondo me mi piace questa nuova versione della colonna sonora di final fantasy 7 dice davide ferraro gomma anche a me tantissimo e cosa importante in che lingua l'ho giocato diceva maromurra e ho risposto breve storia triste cornicione succulento ho visto una schiarita ho pensato giusto in tempo per la camminata quotidiana after work al tramonto con vesuvio sullo sfondo tempo di mettere le scarpe è iniziato a piovere di nuovo mamma mia che brutta storia veramente cornicioni io odio la pioggia maximo t w t 22 dei momenti troppo lenti ma c'erano anche nell'originale dice maximo sì però l'originale secondo me è proprio un altro tipo di non è che l'originale c'ha dei momenti lenti l'originale c'ha proprio un ritmo un po' diverso dato anche da come è fatto proprio il gioco è una roba diversa da scusa non diversa difficile da abbracciare in un in descrizioni precise almeno per me naturalmente re dei sette anni visto che stiamo parlando di colonne sonore c'è un podcast che si chiama strong songs che parla di musica ogni tanto anche di colonne sonore videoludiche stamattina ho ascoltato la puntata dedicata a tears of the kingdom del 3 novembre mi pare molto bella fa vari confronti con i vecchi zelda su come in questo abbiano aggiunto molto sassofono e varie altre ottime chicche grazie re dei sette anni per questa indicazione sto odiando punk boot dice zohar che ha interrotto il sarabanda con la sua sciocca domanda pagherà molto bello questo commento in final fantasy sette remake a me non sono piaciute le modifiche alla storia dice datmar no a me non me ne frega niente invece anzi molte aggiunte sono state fighe secondo me e le cose proprio che stravolgono un po le oppure gradite chris gott sarebbe stato figo introdurre i nuovi personaggi senza spiegare il collegamento o al massimo lasciando qualche indizio sì sì chris gott no no ma sono molto d'accordo con questa tua idea per quanto riguarda della storia sparte 2 sarebbe stato proprio molto interessante forse serviva il coraggio per fingere di mettere da parte i personaggi del primo gioco ma mamma mia ma poi dopo sarebbe stato meraviglioso sono d'accordo ma poi dopo quando vai a capire certe cose madonna sarebbe stato fighissimo però secondo me così senza pregiudizi nei confronti dei nuovi personaggi forse più persone le avrebbero apprezzate io le ho apprezzate lo stesso chris gott perché io riesco a non avere pregiudizi in alcuni casi non sempre ma in alcuni casi o meglio i pregiudizi tutti li abbiamo cioè nel senso non puoi cancellare dei pensieri no però mi piace comunque guardare oltre in alcuni casi e qua ce l'ho fatta per esempio quindi in questo caso è andata così quindi poi scoprire le loro invece mi sarebbe piaciuto il fatto sorpresa che che verrebbe fuori da da una struttura come la proponi tu verrebbe fuori un fatto sorpresa incredibile incredibile sono pomodori secchi su quella quartieri spagnoli ci sono anche pomodori secchi caro perceptron con una copertina e un cuscino avresti potuto stare dentro per due giorni dice mttb ff nel cinema intendo non credo secondo me a un certo punto ti vengono a cacciare quindi no avrei preso un vito juvara ma ormai è chiaramente inflazionato dice marco giusto giusto marco giusto hai fatto bene è un'ottima scelta più che altro perché ce l'hai già no c'è l'abbonamento adesso vito juvara quindi comprare compri un'altra cosa tipo quedex è giusto probabilmente continueranno le storie di ellie e debbie dice chris gott perché è quello che conviene ma spero comunque che verranno introdotti nuovi personaggi soprattutto se completamente scollegati secondo me possono succedere come dicevo entrambe le cose va bene torniamo un attimo a guardarci la quartieri spagnoli di biga così giusto tanto per e tra l'altro qua in questo stesso momento di foto scusa qua che è no sempre biga biga fa anche la pizza al padellino che pure mi piace un sacco che pure consiglio sempre di prendere quando andate da biga come antipasto un po' costoso secondo me ci perde un po' nel rapporto qualità prezzo la pizza al padellino di biga però è molto buono molto buono molto buono va bene ragazzi allora chiacchiera di oggi eccezionale come sempre molto rilassante e molto piacevole e ci vediamo stasera per un'altra chiacchiera ci facciamo una mezz'oretta un'oretta di chiacchiera a seconda di quando inizia la live 22 22 30 e poi dalle 23 invece ci buttiamo su rise of the running con le vostre domande quindi se ne avete altre andate su telegram c'è un post sul canale telegram a cui potete rispondere commentando proprio sotto a quel post sul canale telegram e rispondendo lì io raccolgo le vostre domande stasera ci facciamo questo q a su rise of the running alla scadenza dell'embargo delle anteprime poi la recensione se ne parla il 21 marzo grazie a tutti i caraibi a stasera i caraibi anche dal vostro kg presidio ricordo che a stasera è scritto con l'h da maha stasera come hasta la vista hasta luego a stasera che è un saluto no e saluto anche da al vostro kg presidio qui da caiba station detta caiba station ci vediamo stasera quindi appuntamento a stasera alle prima alle prima delle 23 alle prima delle 23 ci vediamo stasera per una nuova chiacchiera e poi per parlare un po di rise of the running grazie e caraibi